Ecco, concludiamo con un ultimo brano tratto dal manoscritto di Capirola, un'altra paduana. Ecco, dicevo che il manoscritto contiene parecchi ricercare, ne contiene tredici, ne abbiamo ascoltati tre, contiene delle composizioni tratte dalla musica vocale, quindi trascrizioni di canzoni in voga all'epoca e contiene anche numerose danze. Questa paduana, ecco, questa è paduana alla francese che ho suonato all'inizio, questa è un'altra paduana ed è una danza in ritmo binario, probabilmente una pavana, quindi una danza lenta che appunto veniva danzata con passi lenti in ritmo binario e per la quale sono anche state scritte tantissime musiche strumentali, quindi concludiamo con questa paduana alla francese del nostro Vincenzo Capirola. Alla francese del nostro Vincenzo Capirola. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.